eccoci un altro eccezionale tramezzino che piace molto questo tramezzino è fatto con il pan brioche vi spiego la particolarità di questo pan brioche questo pan brioche fatto con burro e uova è un pane di pasticceria lo spessore sempre come tutti gli altri tramezzini di 13 mm e la sua particolarità è proprio il sapore amabile del burro delle uova fresche e è un pan brioche come mangiare una brioche salata ho inventato questo tramezzino con questo pane per il melange di questi ingredienti che si avvino molto bene insieme il pesto di pomodorini secchi che facciamo sempre noi pomodori sott'olio con origano capperi acciughe olio extravergine tutto emulsionato e frullato insieme aggiungo un pizzico di peperoncino proprio per per dare un po più di sapore prosciutto crudo di parma ecco qua mozzarella che piace molto è molto abbinato e un po di rucola come verdure sempre la spezzo a mano così è più più saporita più frizzante la rucola questo va moltissimo perché è proprio uno sfizioso un gourmet di tramezzino e il nostro tramezzino è pronto eccoci 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 eccoci